L'Europa è incompiuta, è un progetto in divenire. Una volta imboccata la strada della unione economica rispetto a quella politica, a dettarne i ritmi sarebbero state e sono state le solidarietà di fatto preconizzate da Robert Schumann. Ricordiamo anche soltanto le recenti lucide scelte operate dalla Commissione von der Leyen a seguito della pandemia. Sono apparse un segno incoraggiante di discernimento e tuttavia non si tratta solo di questo, che sarebbe peraltro già significativo. Pensando tra l'altro alle politiche coraggiose come quelle assunte in materia di mutualità del debito di Next Generation. Non bisogna aver paura delle riforme, di guardare avanti, di immaginare un'Europa sempre più perfezionata nella sua architettura. È sempre più inclusiva di quei popoli, come quelli dei Balcani occidentali, che aspirano da tempo di partecipare a questa avventura.